Allora, a questo punto, scusa, che faccio? Rientro? Eh, va, sì, rientra, vai. O ci salutiamo? Eh, non so quanto mai. Però... Dai, che sono curioso di vedere, vai. Se ne frega, vai. Dove vado? Non so, dove devi andare. Ma si è tutto chiuso. C'è qualcuno che ti guarda. Scusi, eh. Si faccia da parte, perché c'è. Eccolo lì, dove devi andare. Vedete niente. Scusa. Vedi, sta roba che qua è già presa. Siamo nella melba. No, no, siamo nella... C'è del topume. E c'è del... C'è un calav... C'è il polipo. C'è il polipo e... C'è una piovra. Polipo e patate. Polipo e patate per il signore. No, vabbè, cioè, lo sapevo che poi i boss, quelli grossi, mi capitano tutti a me. E certo, giusto. E poi tu mi... Mi devi insultare, perché io... Io ti insulto, esatto. Come al solito. Checkpoint. Ah, che dà, ti ha dato anche il checkpoint. Cosa vuoi di più? Mamma mia, no. Fiammiferino. Ma non si vede un cazzo, soprattutto. C'è un... C'è un cellino. Perfetto. Eh, però poi... E dai fuoco a tutto, lì potevi dar fuoco, no? No. Eh, qua. C'è questa roba lì, puoi dar fuoco, no? No. Poi? No, sarà no. Scusa, quindi... Va dall'altra parte. Vai dall'altra parte. Ma questa roba che pulsa? Ma se gli sparo succede qualcosa... No. Che ho fatto? No. Sapevo che mi puzzava di merda sta roba. Ah, lì c'è chi può una specie di trattola, cazzo, è lì, questa qua. Vabbè, che fin quando prende l'oro va bene. Il problema è adesso come ci passo io. Ma prende anche me, ma non ho capito. Eh, sì, ti fa danno. Eh, ma... Come la chiudo? Non lo so. Eh, io non so che cosa fare. Ah, madonna mia. Ah, sì, è stoppata. Nel metterci sono di cervellini. Che prendo così in maniera gogliardica. Io devo andare a prendere la madonnina. Posso andare di qua. Ah, che. Sì. Però devi fare attenzione che le trappole, perché ho visto una trappola vicino che è la madonnina. Sì, quella l'ho vista anche io. Ah, ok. Qua devo dare fuoco a questo. Quando sono tipo bianchi posso dare fuoco. Sì, sì, sì. Allora. Eccola. Tutta roba bella. Tutta roba bella, sì. Tutta roba bella. 5.000 sarà questo. Perché non me l'ha detto? Non lo so. Capita. Qua non posso rompervi. Sbaglio o non me l'ha detto? Non l'ho letto io, scusa. No. Non l'ho proprio fatto vedere. Minchia, surprise quando andremo poi... Scusa, se faccio così non me lo dice? No. Vabbè, il prossimo che prendi, dai. È a 14.000 se adesso. Quindi saranno stati 2.000, tipo. Boh. 1.000, 2.000, non sono un altro. Ah, guarda, guarda, guarda. Ficcio un gelino. 100. Un attaccolo. Non è vero. Cioè, micchia, così lontano mi prende. Eh, sì. Che culo. Eh, perché io ho un lag di una frazione di secondo, perché sono in cloud gaming e non sto giocando sul televisore. Ma sto guardando dal monitor del computer. Ah, ok. Qua sono appena andato. Era la roba della madonnina. Certo, esatto. Ok. Qua abbiamo visto. Chiuso. Senti tutto. Esatto. Schifo. Aspetta. Ecco. Pensa te nell'acqua. Ma dovete essere veramente delle bastarde. Delle merdi inguinanti proprio. Inguinanti. Qua ci potevo passare prima. Qua non c'è niente. Senti. Bene. Se escire la boss fight dove Nico morirà in maniera... Aspetta che mi curo che... Sì. Un po' di casse che... Un po' che non ne dava. Questo è pieno. Ma se spari ti poni un quadro elettrico. Dici? No. No. Non funziona signora. Ci devo andare con la mano. Che ignorante. Fusibile ad alto voltaggio. Hai preso un mega fusibile. Allora. Tu gira manovella. Gira manovella? Quanto è tutta... Tu schiacci. Tutta tutta bella. Guarda la manovella quanto è bella. Tu schiacci più volte tra scoverga. Adesso escono milioni di persone. Esatto. Al che tu puoi con il fusibile... Attivare tutto. Guarda. Nel dubbio. Ah. Subito diretto. Ma no. Aspetta. Ma no. Dai. Perché non ho più la pistola? Perché te la sei tolta. No. Aspetta. L'hai messa sulla... E cos'è che... Cos'è che non ho più la balestra? Non hai più la balestra. Porca palestra. Porca balestra. Ok. Quindi la pistola adesso ce l'ho a sinistra. Sende anche tu, signore, questa pozza di merda? Ma no. Dai. Ma lascia stare. Cagati un po' sotto. Perché vai anche bello veloce. Aspetta, vaga. E vai. E sto guardando attorno se c'è... Della schifezza da prendere. C'è tutta roba che è pulsa. Stai per... Oh, c'era un cellino di fianco a te sulla destra. O sulla sinistra. Qua? Sì. Ah, ma sono così buttati e intersecati in questa roba qua, in questa schifezza. Infilati dentro. Sì, però tu sai che io già non ci vedo. E vedi? Sai che non ci vedo, tu. Vedi? L'avevo visto anch'io. Sinceramente non l'avevo visto anch'io. Cos'è che mi sta guardando? Eh, sopra. Non è vero. Sei sopra. Non è vero, non è vero. Non è vero. Benvenuti sul mio canale. Sto cliccando dappertutto perché a sto punto, a sto prezzo... Dai, non c'è niente, dai. Vai, vai, vai. Eh, non c'è niente, dicono tutti così. Vai sto posto. Vai sto posto. Cosa fa? Non lo so, si è messo a paura anche lui. C'è tutto. Oh. Cosa c'è? Vabbè, c'è solo gente lì. Vai di piano piano, vabbè, potevi ucciderlo, forse. Oh, ah, già, c'è sempre la piovra. C'è sempre la piovra cattiva che ha deciso di non farti dormire stanotte. Ah, esatto. Niente, qua non mi dà niente. Qua per terra non c'è niente. Qua non posso più andare indietro. Devi andare su, su. Su dove? Lì, c'è la scala. Aspetta, qua non c'è niente da buttato lì in mezzo. No, no, no. Maniera goliardica. Sì, salga. Ok, andiamo a morire. Salga, ragionerà. Signor Castellano. Mi faccio vedere come muore uno sbirro. Faccio vedere come muore uno sbirro, micchia. Allora, fiammiferi come se non ci fosse un domani, ma anche la bicca. La bicca. Perché faceva fiammiferi la bicca. Eh sì, faceva gli accendini. Ah, gli accendini. E poi per piacere vedere se esce della roba verde sul verde. Adesso ci provo, ma non mi sembra. Che tenero, mi ha aperto le cosce. Esatto. Come sono morbidoso. E cammina. Lubrificate al punto giusto. Esatto. Eccolo il checkpoint. Check morto. Esatto. Madonna mia. Mi sento già proprio il continuo. Il tubo di continuo. Allora. Dai, su. Aspetta. Non c'è qualcosa che cammina. E quello lo lascio lì, vabbè. Oh, ma la... Ma scusa. Ma che cosa è successo? Stancata la testa. Ma così? Ma ha shottato. Ma ha shottato malissimo. Ma scusa, ma quello lì a peso non gli puoi dare tipo fuoco senza sparaggio. Ma non sapevo neanche se ne avessi uno a fianco. Tu vedi tu. Scusa, io devo aumentare la luminosità perché non ci vedo una cippa. Vai. Dov'è? Vi voglio bene, però io non ci vedo una mazza. Ma vai, vai. Ci preoccupare. Massimo vediamo qualcosetto di più noi. Eccolo. Allora, il tizio. Da dove cazzo è uscito? Vedi? Da qua. Ah, bastardo. Eh, col cazzo. Eh. Là. Scusa, eh. Ma lasciatemi del gel, però. Questo si muove. Sì, se no quello è vivo. Cioè, è vivo. È brucia, brucia. Questi non li ho mai usati. Ho usato. Tanto a pulire i recuperi. Fanno il danno. Non fanno danno. Non me li fa recuperare, soprattutto. No, vabbè. Eh, vabbè, dai. Vabbè, tanto non li abbiamo mai usati, sta roba. Sì, sì, sì. Allora, questi sono esplosivi, questi congelanti, questi accecanti e questi inutili. Allora, lo shotgun. Comunque sì, inutili. Fammi caricare. Vedi se vedi della roba qua da prendere per terra. No, no. No, non vedo niente. Allora, questo è vivo. Sicuro. Si è decapitato, immagino. Anche questo. Scusate. Oh, vuoi una granatina? Cosa vuoi? Noi infatti abbiamo dato fuoco a gente. Senza motivo. Vai. Ma non è vero, li ho presi. Ma vai, affanculo. Te, piglia fuoco a te. L'altro dov'è? Mi dia del verde, scusi. È morto, è morto. Ma qua non mi sputate dei colpi o qualcosa? Niente. Fate schifo. Siete veramente inutili. Ancora. Io non li vedo per terra, si mimetizzano queste schifezze. Questo? No, questo l'ha già ucciso. Questo? Perché c'ha il cervello per terra. Favamo qua. Allora. Guarda cosa c'è di qua. Niente. Niente, praticamente niente. Non ti brucio perché ti lascio lì a marci. È giusto che sia così. Esatto. Lì c'è una scatoletta elettrica. Del verdume. Qua c'è un altro fusibile che posso prendere. No, esatto. No, ma mi sa che l'hai messo tu. Ah, ok. Quello che hai preso prima. Infatti vedi che adesso è però. Aia, aia, aia. E quindi li devo rimettere? No, ormai. Però mi sa che quella roba lì elettrica se ne va un po' a bada alla cosa. E, e... Che faccio? Interagisco? No, no, basta. Non puoi fare niente. Non c'era del verde qua che spuntava, no? No. E quindi non posso... Salve. Salve, scena. Ok, via. Cervellino da raccogliere. Sì, devo prendermi questo qua. Dov'è? Sì. Che poi, solo 200. 100, dato, stavolta. 100. La grittura. Sì. Eh no. No, perché? Perché? Perché maledizione a me. C'ho la pistola che ho sempre avuto. Uh, aspetta, aspetta, aspetta. Devo riposizionarmi la roba. Perché la pistola ce l'avevo sotto. Questo ce l'avevo qua. Ok, vai. Qua non c'è niente da prendere. Questi così qua non hanno lasciato materiali, robe... No. Qua è dove non potevo andare. Quindi devo ripassare di qua. Sì, naturalmente c'era uno che ti sbarrava tipo la strada. Allora, ecco. Madonna, al volo. Ma ancora non è morto, scusami. Vai giù. Boh, fatto. Signori, voi non sapete, ma io questi giochi con l'ansia... Dai, mola lì. No, ma no, ma no, dopo. E c'è? Prendi il gel, lì. Allora, secondo me io adesso apro questa valvola qua e succede un disastro. Esatto. Un putiferio. Ma l'anaconda lì? L'arco. Allora, che coso... Ah, hai tirato giù l'acqua. La parte lì che non potevi più andare. Non potevi andare. Quindi dove vado, a destra o a sinistra? Eh, a destra. C'era quella parte lì che non potevi andare con l'acqua. Dritto davanti a te. E ora ci puoi andare. Oh! Del pipino. Faccio veramente schifo. Ancora vivo sei? Corruccio, corruccio. Sì, sì. Ho quasi finito i fiammiferi. Da che... Li lasciavamo in giro che... Non ne avevamo? Eh, ok. Ho finito anche i colpi della pistola nel mentre. Se non mi dà roba e incontro... Il coso lì è un casino. Che cosa gli sparo? Ancora. Checkpoint. Guarda dove l'hanno nascosto. Vai piano, eh. Non si sa se c'è qualche... Eh, è successo, è caduta. Sì, sì, vabbè. C'è una roba che... Tipo... Che cazzo è l'acido, tipo? Non ci passare vicino a loro. Minchia, che grosso. Spara, io... Eh, non mi fa sparare. Spero che non mi abbia fatto consumare. Le munizioni me le abbia date a gratis. Queste 18 che ho sparato a casa. Potrebbe. No, comunque non era gaccido. Sono finito in una specie di nido. Eh sì. Comunque non era gaccido. Era tipo... La saliva. Ah, sì. La saliva che scendeva, però. Eh sì, perché... Era la bocca aperta che... Quindi era una scendeva. Non era la saliva. Muah, 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 muah. Bru... Bocciato. Ancora ce n'è ancora. Madonnine, però, è difficile da vedere. Hai finito? Non c'è più niente dentro. Ho visto una roba tipo... Potevi... Ah no, eh... No, non puoi prenderlo. È tipo quello che è esplosivo. Ce l'abbiamo, se non mi sbaglio. Vediamo. Eh, sei pieno. Sei pieno. Ok, ok. Tu guarda sempre se vedi del verde in giro. Ecco, uno l'ho visto lì. Sì. Però mi deve dare i proiettili perché... Lì per terra ci sono dei fiammiferi, forse? Dei fiammiferi. Cosa me l'ha dato? Uno. Sì, tipo. Due. Ok. Dai, che vogliamo picchiarlo a questo. Oh, guarda quanti colpi, po'. Ne è arrivato il momento. Immaginavo. Grazie. Vengo. È arrivato il momento. Aspetta, però posso andare a salvare. Sì. Forse posso anche livellare qualcosa. Che è tipo il caricatore della... Non sarebbe male. Sì, anche. Cioè, ora quanta roba ti ha dato. Mamma, mi pensa qua. E ti fa anche andare a salvare. Sì, perché praticamente ti sta dicendo Lei sta per morire, guardi. Esatto. Guardi. Un pezzo di mappa. Non c'è più niente. Non mi regala più niente. Lo tagli tu, questo video, perché viene da due ore, praticamente. Sì. Sì. È tranquillo. Non mi fa muovere. Adesso sì. Che è? Eh, no, 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 era quasi incontrollabile. Allora, abbiamo una chiavetta, tra parentesi, che avevamo trovato prima. Andiamola a prendere. Salviamo e ci salutiamo a questo punto. Allora, scegli, questo lato o l'altro lato? Questo, dai. Questo? Sì. Sceglia... Ah, quello che vuoi, guardi. Vai, vai. Quello lì va bene. Vai. Sì. Oh. Sì. Settemila. Vai, barra vitale farei io. Qua non c'è un'altra. Abbiamo 26.000. Abbiamo 26.000, io farei barra vitale. Ah, ecco i pezzi della mappa, guarda. Ah, beh, allora. Adesso sì. Adesso sì che mi serve. Uh, eh, viva. Uh, prividi. Attenzione. Il privido, il privido. Incollezionabile più inutile della terra. Esatto. Dici barra vitale? O potenziamo le armi? Eh, io direi barra vitale perché, sai, almeno così siamo full di barra vitale. Tutti così non possiamo andare oltre. Per curiosità. Munizioni... Ah, ci possiamo portare la magna. Che ce l'abbiamo dietro la magna, mille via. Sì, ce l'è sempre dietro, sì. Ok. Munizioni, fucile, pompa, minchia, 15.000 per averne 10 in più. Tipo ad esempio questo, io non pagherei 6.000 per due colpi. Eh, no, infatti, infatti. Mentre... Prendi, il primo moltiplicatore di danno della magna mi sono costato 8.000. Sì, infatti, tu immagina quanto è potente sta magna. Eh, invece il moltiplicatore di danno 16.000. Sto cazzo. Eh, tantissimo. No, no, io farei... Io mi fullerei la vita, almeno così possiamo essere anche colpiti più volte. Vai. Completato, vedi? È il massimo. Adesso ci andiamo a salutare. Esatto, minchia, guarda quanta barra vitale che abbiamo. Praticamente facciamo più di un giro di mezzo giro. Vai. La signora ne mentre poi è scomparsa, eh. E effettivamente ha mantenuto la parola del giornale. Dove lascio? Qua o qua? Dove vuoi, tanto la stessa cosa. Bene ragazzi, quindi con questo video... O doppio video di... O doppio video, vediamo. Molto probabilmente doppio video. Ci vediamo nella prossima puntata con The Evil Within. Forse sarà la fine, forse no, non lo so, vedremo. E mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, interagite con noi, con like, commenti, qualsiasi cosa. Dateci la vostra impressione, la vostra idea. Chiedeteci qualcosa, noi vi risponderemo. Non vi insultiamo perché ci insultiamo tra di noi. Pogliatevi bene, viva la pace nel mondo e il Signore sia con voi. Un saluto da Nico. Un saluto a te. Ciao. Ciao.